Nella seconda parte della sessione di ottobre dei lavori del Consiglio Provinciale di Bolzano sono state trattate altre proposte dell'opposizione. Respinta la mozione del Tim K, cofirmata da Freier Fraktion, J.V.A. Wirt-Anderland, Gruppo Verde e Führ Südtirol mit Widman, che proponeva giusti stipendi per garantire un futuro al pubblico impiego. No anche all'iniziativa di J.V.A. Wirt-Anderland per il potenziamento dell'istruzione parentale con un finanziamento pubblico e alla proposta del Gruppo Verde con diverse misure per sensibilizzare sul cambiamento climatico e affrontarlo, con particolare riguardo ai gruppi di persone vulnerabili. Respinte un'altra richiesta dei Verdi per uno studio sul valore aggiunto del sistema culturale creativo, una di Südtirol Freiheit per il passaggio alla provincia della tratta ferroviaria Bressanone-Pratto alla Drava, una del Tim K per una integrazione nell'elenco degli enti strumentali e delle partecipate della provincia. Il plenum ha respinto anche il passaggio alla discussione articolata di un disegno di legge del Tim K per l'istituzione di un organismo di garanzia per i casi di violenza a sfondo sessuale. La maggioranza ritiene che il tema non sia stato trattato nel modo più opportuno e presenterà a breve una propria proposta. Giovedì mattina il presidente della provincia Arno Compaccer ha presentato la relazione sulle società partecipate al 31 dicembre 2023. Nel 2023 esse hanno registrato un utile netto di 135 milioni di euro e un valore di produzione totale di 892 milioni di euro. Grazie a tutti.